Avevano promesso che se fosse arrivata la gognata promozione avrebbero messo in atto il più alto ringraziamento alle sfere celesti che la tradizione ciociara ha in animo da tempo immemore. Andare ad omaggiare la Santissima, meta di pellegrinaggio particolarmente ardua data la collocazione in altura. La promessa l'aveva lanciata sui social l'avvocato Ceci insieme ad Alessandra Di Legge appena terminata la fatidica partita contro il Palermo. Allora dobbiamo decidere la partenza per Pallepietra, dobbiamo andare a Pallepietra, la Coppa Copram verrà consegnata da Mirko Gori, e io con la maglia di Bagliello e Aldo Ceci. Così questa mattina, contrassegnati da una maglia giallazzurra recante il Voto, scritto pedisseguamente in un dialetto Frosinate, si sono ritrovati all'alba per mantenere la promessa e l'hanno mantenuta. Una vicenda che per la sua particolarità ha calamitato l'attenzione della stampa sportiva e non, e che sottolinea ancora una volta la specialità dei sostenitori del Frosinone, pronti a vivere la straordinaria storia della squadra giallazzurra con sfumature identitarie condite di poesia. Non a caso tra i pellegrini c'è il consigliere comunale di Frosinone, Stefano Pizzutelli, noto per i suoi sonetti dedicati ai leoni, oltre ad altre note personalità della vita associativa e politica del capoluogo e dintorni. Grazie. Grazie.